Officine Italia, evento organizzato da Carze e Simbola, ha arricchito il capoluogo con due giorni di convegni, mostra e multivisione sui temi della ricostruzione, recovery plan e altre tematiche connesse. Tra gli interventi più attesi, quello del commissario per la ricostruzione del Ceggio Italia, Giovanni Legnini, è di pochi giorni fa la notizia di un'ordinanza speciale a sua firma per la ricostruzione di Campotosto, uno dei comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016 e già colpito in precedenza dal terremoto del 2009. La presenza del doppio cratere in questo caso ha reso complessa la ricostruzione fino ad oggi, ferma nei fatti alla demolizione di buona parte dell'abitato, con il comune in evidente difficoltà. L'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione sarà soggetto attuatore per cinque interventi di ricostruzione pubblica per un importo complessivo di più di 9 milioni di euro. Prende corpo così la strategia di intervenire con poteri speciali nei casi più complessi. Ci saranno circa 20 interventi di questo tipo, annuncia Legnini. Credo che tra le ordinanze adottate e quelle che sono in via di emanazione arriveremo a una ventina di situazioni molto complesse che abbiamo già affrontato e che possono godere di una regolazione specifica, adatta a quella situazione. Cioè noi andiamo in soccorso da un punto di vista delle regole, delle semplificazioni, delle deroghe, da un punto di vista del supporto a quei territori che non ce la fanno. Officio in Italia ha affrontato con diversi relatori anche il tema del recovery plan e di tutte le risorse che arriveranno, ma intanto c'è già la buona notizia dei fondi aggiuntivi per il territorio del doppio cratere, quasi 2 miliardi ottenuti. Sulla governance si sta discutendo. Innanzitutto abbiamo conquistato una risorsa molto importante, 1 miliardo e 800 milioni di euro per i due crateri del 2009 e del 2016 per interventi aggiuntivi, aggiuntivi alle misure generali del PNRR, aggiuntivi ai fondi della ricostruzione, per opere complementari, per rendere questi territori più attrattivi. Si apre la partita della rigenerazione territoriale, sono 1 miliardo e 800 milioni per i due crateri, questo è anche importante aver riunificato l'Appennino centrale che seppur ha vicende amministrative, date i differenti terremoti, però è dentro un'unica partita che è quella appunto di pensare come la montagna possa avere un ritorno al futuro, possa rispondere alle nuove sfide e le sfide della nostra contemporaneità.